Spazzole, becchi, pettini, mantelle. Upgrade è un mondo di strumenti e accessori performanti al servizio della bellezza, pensati per aiutare l'airstylist a lavorare meglio. Come Nano Silver Ionic, la linea di spazzole termiche, ergonomiche e ultraleggere. Il loro plus più importante? Essere all'avanguardia grazie alla nanotecnologia antibatterica e antifunginea di cui sono dotate. Le setole ionizzanti modellano i capelli, rendendoli più sani, lucidi e forti. Qualsiasi sia lo styling che desiderate, in Upgrade trovate il prodotto professionale per realizzarlo. Le spazzole termiche Red Angle sono davvero versatili. Potrete creare look fantastici, sia lisci sia mossi. Merito della loro forma triangolare concava, con cui è più semplice tendere il capello e creare volumi particolari. La barra in titanio garantisce leggerezza e calore costante. Le setole, realizzate con materiali innovativi, danno morbidezza e brillantezza ai capelli. Geometria perfetta, bilanciamento e leggerezza sono le caratteristiche dei sette pettini nano-ion. Realizzati con Carbon Composite, garantiscono il massimo controllo di ogni ciocca, mentre le loro proprietà ionizzanti rendono i capelli lucidi e vellutati. E per districare le chiome più lunghe e fragili, o pettinare le extension con delicatezza, ecco le spazzole pneumatiche Cushion Brushes. Che cosa le rende speciali? Il mix di materiali selezionati, cioè setole miste sintetiche e naturali, per tanta morbidezza e delicatezza in più. Massima tenuta sulle ciocche grandi e piccole con i becchi con leveraggio Alligator, un accessorio che non dovrebbe mai mancare per aiutarvi a realizzare le acconciature Glamour. Vering, il diffusore che è più di un diffusore normale. Un prodotto studiato appositamente per le vostre esigenze professionali. Con Vering è possibile variare il flusso di uscita dell'aria in base alla tipologia di capello. L'effetto sarà davvero sorprendente. Avrete tanto volume in più fin dall'attaccatura e ricci ben definiti anche su capelli fini, crespi e sfibrati. Upgrade. Innovazione, qualità, performance per il professionista.